Il mondo dell'arte e della cultura fa un sospiro di sollievo. Riaprono i musei nella Toscana in zona gialla dopo due lunghi mesi di stop. Il presidente della regione toscana Eugenio Gianni ha fatto visita al museo di casa Rodolfo Siviero a Firenze, lasciata per testamento alla regione dallo stesso investigatore dell'arte cui si deve il recupero di opere trafugate durante il periodo dell'occupazione nazista. Rappresenta un po' il simbolo di una riscossa identitaria italiana nel non farsi depoperare dal patrimonio che è unico al mondo. Ma in realtà è il gesto simbolico di dire finalmente dopo tante battaglie siamo riusciti e devo dire insieme al ministro Franceschini abbiamo spesso insistito sotto questo aspetto perché in zona gialla, contrariamente ai primi di CPM, fosse inserito anche l'apertura di musei e mostre, naturalmente in modo distanziato. Anche in Toscana riaprono spazi museali e mostre. Secondo me questo è un grande segnale per la cultura perché dopo il covid la cultura ritrovi quella posizione centrale che in Italia, in Toscana, è necessario riuscire a sviluppare come messaggio forte della nostra identità. Grazie a tutti.